Terra amara anticipazioni turche. Episodio turco 89. Riassunto di Birza Manlar Kukurova. Zuleyya confessa il suo amore a Demir. Il destino ci ha mostrato il cuore l'uno dell'altro. Anche se il tema della speranza fa male alla coscienza di Demir. Vedere Zuleyya aprire davvero il suo cuore dopo tutto quello che è successo lo rende molto felice. Dopo una grande crisi e due figli. I cuori di Zuleyya e Demir battono l'uno per l'altro contemporaneamente per la prima volta. Demir e Zuleyya partono in vacanza per trascorrere un po' di tempo da soli e per essere veramente una coppia per la prima volta nella loro vita. Demir. Cosa dirà a Umit adesso che il suo sogno è diventato realtà con Zuleyya. La felicità che Demir e Zuleyya trovano sia a casa e sia nella vita lavorativa. Distrugge Umit. Anche Sevda che capisce la situazione. Va alla porta di Umit. Ora Umit sta per diventare la donna di troppo. Che ha rovinato la storia di Demir e Zuleyya. Nella storia iniziata come un complotto. Umit riuscirà ora a rinunciare a Demir? Mentre pensava di innamorarsi di Umit. Demir si rende conto che l'amore che si aspettava da Zuleyya finalmente è una realtà. E non vuole spezzare il cuore di Zuleyya. Anche Sevda non vuole che Demir assomigli a suo padre e cerca Demir per parlargli. Fekeli è consapevole che solo la vicinanza di Lutfi può cambiare i piani di Fikret. Lutfi. Che porta gioia nella villa Fekeli. Che è stata a lungo una casa in lutto. Affascina anche Zuleyya che va a visitare Fekeli con il piccolo Adnan. Zuleyya chiede aiuto a Fekeli per fermare questa ostilità. Fekeli crede ed è consapevole della gioia che porta Lutfi. Inoltre. La sua famiglia ha bisogno della sua presenza per mantenersi unita. Fikret non si arrende a Musgan e alla sua lotta. Musgan incontra ancora una volta un uomo in cerca di vendetta. E cerca di dissuadere Fikret. E di lontano dalla sua vita. Fikret non vuole perdere Musgan. Ma lei è decisa. E dice a Fikret di lasciare perdere la vendetta. E di credere nell'amore della loro storia. Lutfi. Invece. Tiene per sé i segreti che conosce fin dall'inizio. Ma cerca di parlare con Fikret e di dissuaderlo. Ma tutti gli sforzi sono Giovanni. Fikret non rinuncerà alla sua battaglia. Inoltre. Ora si sente sconfitto. Ora ci sono due signore per Cucurova. Sevda e Zuleyya. Sevda. Che ha creduto fin dall'inizio che il matrimonio di Zuleyya e Deemir non dovesse rimanere sulla carta e li ha incoraggiati ad aprirsi di nuovo i loro cuori. affronta anche Umit per evitare che la loro felicità venga messa in ombra. Sevda si è ormai abituata sia a Cucurova che alla vita nella villa. Sevda. Insieme a Zuleyya conquisteranno ogni giorno i cuori di Cucurova con storie diverse. Nel mentre Deemir cerca di risolvere la questione Umit. Che sembra non voler rinunciare a lui. Così la battaglia ha inizio. Mentre Deemir è in viaggio per fare i suoi affari. Vede un'auto rotta e questa volta non incontrerà un vento come Umit. Deemir si ritroverà in un posto davvero sorprendente in un momento inaspettato.